La ministra Lamorgese ha presiduto come ogni ferragosto il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza. Occasione per fare il punto sui reati commessi in Italia. Elena Malizia. Un anno di lavoro delle forze dell'Ordine, un bilancio che vede aumentare i reati rispetto all'anno scorso, oltre 2 milioni e 116 mila a fronte di 1 milione e 800 mila. Ma se confrontiamo il dato con il periodo pre-Covid, i numeri confermano la diminuzione dei delitti, come si registra da molti anni. Numeri presentati in concomitanza del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno Lamorgese. 900 mila i furti, più di 300 gli omicidi, ed è ancora allarmante il dato sulla violenza di genere. 125 i femminicidi a fronte dei 108 al 31 luglio dell'anno scorso, ma sono diminuiti le denunce e gli allontanamenti. Aumentati i controlli anche quelli della polizia postale sui siti web, oltre 558 mila, più di 8 mila 800 gli attacchi rilevati e 115 mila gli alert diramati per la sicurezza informatica. Costante il monitoraggio dei contenuti web per la prevenzione antiterrorismo. Poi la lotta al traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata all'abusivismo commerciale sul fronte immigrazione. Gli sbarchi sono aumentati di oltre il 40%, 45.664 all'11 agosto di quest'anno, a fronte dei 32.533 del 2021. Sui numeri dei flussi migratori incidono la guerra in Ucraina e la pesante situazione in Afghanistan.